bene allora trattiamo una cicatrice retraente da protesi al ginocchio e facciamo prima un trattamento manuale quindi di scollamento sto preparando per poi lavorare con un tools nuovo che lo scrapper sto usando un gel neutro quindi adesso accendiamo accendiamo lo scrapper lo mettiamo a 40 gradi perché evitiamo che si scaldi troppo ok e cominciamo a fare questa azione di scollamento ci aiutiamo un po con con questo attrezzo quindi stiamo facendo vibrazione 40 gradi più un lavoro praticamente mio fasciale utilizziamo la parte con la punta perché poi ci abbiamo anche la parte convessa quindi lo spigolo con la punta per cercare di con la vibrazione e con il calore stiamo rispettando i 40 gradi che ci indica la metodica di stecco ok facciamo un lavoro anche laterale sempre mio fasciale in contrapposizione lavoro sempre con il vertice in scollamento sono nella parte laterale della cicatrice e poi riparto di nuovo con al livello manuale faccio fare delle contrazioni isometriche per cercare di valutare a livello funzionale le aderenze cicatriziali e poi vado avanti stop